Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo subito con la cronaca. Falso allarme alle poste di Sulmona questa mattina per un pacco sospetto. Era una radio per un detenuto di Via Lamaccio. Sentiamo tutto nel servizio di Andrea D'Aurelio. Falso allarme stamane nel centro primario di distribuzioni a Sulmona per un pacco sospetto destinato a un detenuto alle carcere di Via Lamaccio. È stato necessario l'intervento degli artificieri di Apescara che hanno fatto brillare il pacco in questione per riportare calma e serenità dopo momenti di sospetto e preoccupazione. L'allarme è partito intorno alle 10.30 dal centro primario di distribuzione grazie al rumore sospetto che proveniva dal pacco destinato alla struttura penitenziaria. Subito dopo sono scattati i controlli di rito con il direttore del centro, Alessandro Sabatini, che ha contattato le forze dell'ordine. Fino all'arrivo degli artificieri da Apescara, la zona di piazza Brigata Maiella è stata transennata, evacuati per circa un'ora i dipendenti dell'ufficio postale. Le verifiche subito dopo si sono spostate nel centro primario di distribuzione dove è partito l'allarme mentre nel vicino ufficio e servizio è stato ripristinato regolarmente. La squadra anticrimine del commissariato di Sulmona, a seguito dei rilievi eseguiti dagli artificieri, ha autorizzato il rientro degli impiegati nella struttura. Nel pacco sospetto c'era una radio destinata a un detenuto di Via Lamaccio. Abbiamo attivato tutte le procedure senza creare troppo allarmismo, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine che sono arrivate tempestivamente, spiega a Onda Tg il direttore del centro primario di distribuzione, Alessandro Sabatini. Ovviamente è il sano timore perché non capita tutti i giorni di ricevere un pacco che dall'interno emette un rumore sospetto. Quindi senza troppe blaterazioni, la squadra d'emergenza ha avviato le procedure del caso e abbiamo chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente, isolando l'area e facendo brillare il pacco. Una mattinata tutt'altro che tranquilla per Sulmona, proprio la vigilia della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma tutto è bene quel che finisce bene. E momenti di paura si sono avuti questa mattina anche a Pescara Colli, intorno alle 8 in Via del Santuario, per la presenza di uno zaino sospetto abbandonato in strada nei pressi di una banca. Una volta scattato l'allarme, la zona è stata raggiunta da alcune volanti della Polizia di Stato, con gli agenti che hanno provveduto ad isolare la zona per impedire alle persone di avvicinarsi e permettere soprattutto l'immediato intervento degli artificieri per i controlli e la bonifica nell'ambito del protocollo internazionale previsto. Era stato chiuso un tratto di strada con disagi al traffico veicolare. Lo zaino è stato fatto poi brillare dagli artificieri della Polizia di Stato. All'interno c'erano solo indumenti e capi di abbigliamento. La situazione è poi tornata alla normalità, con le strade riaperte al traffico. Nella giornata di ieri ricordiamo c'era stato un altro falso allarme bomba in via Lussemburgo a Monte Silvano, con il rinvenimento in strada di un trolley sospetto, poi fatto brillare dagli artificieri. E lasciamo dunque queste notizie per quanto riguarda falsi allarmi. Adesso parliamo del grande giorno per la città di Sulmona. Domani è il giorno di Mattarella, che chiuderà il convegno internazionale degli studi ovidiani. Centro storico blindato e raccolta differenziata sospesa per la giornata di domani. Ci dice tutto del servizio Andrea Daurelio. Domani a Sulmona è il giorno di Mattarella. Centro storico blindato per attivare le misure di sicurezza e raccolta differenziata porta a porta sospese in alcune zone della città dopo l'appostita ordinanza emessa da sindaco Anna Maria Casini. Dalle 17.30 di oggi, 5 aprile, fino alle 13.30 di domani, giovedì 6 aprile, è istituito il divieto di sosta in Viale Roosevelt, Piazza Tresca e Corsovidio, dall'incrocio con Piazza Tresca, Via Denino, Via Panza, Ponte Capograssi, Largo Palizze, Via Angeloni e Via De Sangro. Domani, giovedì 6 aprile, dalle 7 alle 13.30, sarà vietato transitare su Ponte Capograssi e nell'intero centro storico, compreso all'interno delle circovariazioni occidentale e orientale. Sarà quindi vietato l'accesso in centro attraverso Via Capitolina, Salita, Costa del Sagittario, Costa del Contadino, Via della Rocca e Via Marselli. Per la giornata di domani permane anche il divieto di esporre i mastelli della raccolta differenziata, la sospensione della raccolta dei rifiuti solidi urbani per le utenze domestiche e non domestiche riguarda Piazza 20 Settembre, Corsovidio dell'intersezione con Vico dell'ospedale, all'intersezione con Via Mazzara, Via Antonio Denino, Via De Sangro, Via Roma, Via Angeloni, Via Panza e Largo Panza, nell'area compresa dal Ponte Capograssi fino all'intersezione con Via Gramsci e Via Gramsci fino all'intersezione con Via Borrone. E tra il Capo dello Stato Mattarella e Ovidio c'è un legame che risale a 28 anni fa. Sentiamo meglio. Mattarella e Ovidio, un legame che è cominciato nell'ottobre del 1989, praticamente 28 anni fa. Proprio alla vigilia della visita del Capo dello Stato che chiuderà il convegno internazionale degli studi ovidiani, spunta un tepliant storico che risale al periodo 19-28 ottobre 1989. Era una mostra bibliografica dedicata ad Ovidio con convegno annesso. Fra i componenti del Cominato d'Onore dell'epoca spicca il nome di Sergio Mattarella, allora senatore della Repubblica, oggi inquilino del Colle. Un appuntamento di cui si è persa la traccia storica, ma proprio in queste ore se ne riscopre il valore e l'importanza alla luce del coinvolgimento di Mattarella che non è la prima volta che ha a che fare con il poeta dell'amore. Anche nel 1989 c'era il Comitato Scientifico e fra i suoi membri non poteva mancare Paolo Fedeli. L'ironia della sorte vuole che proprio Fedeli oggi presiede il Comitato Scientifico del Bimillenario della Morte di Ovidio. È tutto pronto nel frattempo per accogliere il Capo dello Stato che arriverà domattina alle ore 10. Al termine dell'ultimo sopralluogo da parte dello staff del Quirinale è stato varato il protocollo ufficiale della visita di Mattarella. Al teatro comunale accederanno solo quei cittadini che si sono accreditati presso il silo del Comune entro le 16 di ieri, 4 aprile. Mattarella con molta probabilità atterrerà in località incoronata. Poi il tragitto fino in piazza 20 Settembre dove sarà accolto dalle autorità e dalle scuole ma anche dalle fioriere che in questi giorni danno un tocco di novità alla piazza. Restano invece le transenne davanti alla Cappella del Corpo di Cristo del complesso monumentale dell'Annunziata creando qualche polemica. Da piazza 20 al teatro il Presidente della Repubblica percorrerà un breve tragetto a piedi dopodiché presenzierà all'ultima mattinata dei lavori del convegno. Il conto la rovescia per quella che sarà un'altra giornata da inserire negli annali della storia sta per finire. In programma stasera la fiaccolata della memoria all'Aquila in ricordo delle vittime del 6 aprile 2009 quando una violenta scossa sismica distrusse la città. La fiaccolata cura dei comitati, dei familiari delle vittime partirà alle 22.30 da via 20 Settembre dopo una sosta presso la casa dello studente attraverserà Corso Federico II per arrivare in piazza Duomo dove ci sarà la lettura dei 309 nomi delle vittime seguirà nella chiesa di San Giuseppe Artigiano la Santa Messa preseduta dall'Arcivescovo dell'Aquila Giuseppe Petrocchi e la veglia di preghiera aspettando le 3.32 quando i rintocchi della campana del suffragio ricorderanno le vittime. e otto anni dopo Sulbona ricorda Roberta Zavarella vittima del sisma aquilano di quel maledetto 6 aprile le prime proposte l'intitolazione del parco giochi di via San Lustio ce ne parla nel servizio Andrea Daurelio 6 aprile non solo il giorno della visita del capo dello Stato Sergio Mattarella per chiudere il convegno internazionale degli studio vidiani ma anche e soprattutto l'anniversario di quella maledetta notte del 2009 quando alle 3.32 la terra tremò e 309 persone persero la vita nell'elenco delle vittime del tragico terremoto aquilano compare il nome anche della sulmonese Roberta Zavarella la giovane studentessa che aveva sempre sorriso sulle labbra dedita al sociale e alla sua comunità dopo otto anni della tragedia il comune di Sulmona è a lavoro per intitolare a Roberta un luogo della città che rappresenti un inno alla vita fra le prime ipotesi si pensa al parco giochi di via Sallustio aperto con tanto ritaglio del nastro lo scorso 26 marzo in occasione della festa della primavera non è da escludere la dedica di un'aria o uno spazio sito nella frazione cavate di Sulmona dove la giovane ha trascorso i suoi anni dell'infanzia e dell'adolescenza tutte le proposte dell'amministrazione comunale saranno al vaglio della famiglia abbiamo già delle idee in merito ma riteniamo di non poter agire da soli ma tutte le ipotesi devono essere concordate con i familiari spiega il consigliere comunale Andrea Ramunno che si sta occupando del caso un atto dovuto quello del comune di Sulmona che non vuole dimenticare Roberta Zavarella un gesto quasi imposto dalla storia Paganica Paganica che con circa 10.000 abitanti è la frazione più grande del comune dell'Aquila segna il passo nella ricostruzione post sisma ad otto anni dal tragico terremoto del 6 aprile 2009 la rinascita del popoloso centro è praticamente ferma al palo secondo i dati forniti dall'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila su 77 istanze di recupero edilizio relative ai primi tre comparti che hanno copertura finanziaria i consorsi hanno 35 progetti di questi solo 16 sono stati cantierizzati soprattutto nel centro storico regna ancora la distruzione gli unici interventi rimangono quelli della messa in sicurezza anche se bisogna dire è rientrata in funzione almeno una parte della frazione nuova Paganica è in forte ritardo nella presentazione dei progetti definitivi spiega l'assessore alla ricostruzione del comune dell'Aquila Pietro Di Stefano ma la responsabilità non è del comune sulle colpe dice non mi addentro ma è chiaro che è un problema di filiera tecnica insomma la ricostruzione funziona se tutti camminano se va uno solo non funziona nella serata di ieri in un intervento congiunto della squadra mobile della volante è stato arrestato un Aquilano 25enne con precedenti di polizia anche specifici per il reato di maltrattamenti in famiglia l'uomo ha aggredito l'ex compagna mentre questa si accingeva a rientrare nel proprio appartamento attendendola sul pianerotto e dopo averla salita alle spalle l'ha scaraventata a terra e colpita ripetutamente con calci e pugni per poi allontanarsi dopo averla ingiuriata e minacciata di morte la donna è riuscita a richiedere l'aiuto della polizia e dopo aver raccontato l'accaduto agli agenti è stata trasportata in ospedale per aver violentamente battuto la testa e a causa del trauma cranico che gli è stato riscontrato è stata ricoverata in osservazione da due anni la situazione fra i due era degenerata tanto che le prime richieste di intervento da parte della vittima risalgono al 2015 qualche giorno dopo la nascita della loro bambina diverse volte l'uomo anche in preda ai fumi dell'alcol in luoghi pubblici davanti all'altra persona aveva aggredito ingiuriato e minacciato la donna la quale temendo per la propria incolumità e per quella della sua bambina aveva più volte cambiato abitazione oltre che le proprie abitudini come quella di uscire di casa solo se accompagnata l'aggressore noto alle forze dell'ordine è stato rintracciato poco dopo all'interno di un bar cittadino e arrestato e lasciamo dunque questa notizia di cronaca che si è verificata appunto nell'Aquilano questo episodio di cronaca che si è verificato nell'Aquilano adesso ci occupiamo del Denino Morandi il presidente della provincia dell'Aquila De Crescentis ai capigruppo la convenzione con il provveditorato non si ferma questa è la dichiarazione appunto del presidente dell'ente provinciale dell'Aquila ma sentiamo meglio nel servizio di Andrea D'Aurelio la convenzione con il provveditorato alle opere pubbliche in via di definizione mentre la strada dello scorrimento della gradatoria non sarebbe la più percorribile e quanto è venuto fuori dall'incontro fa il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis e la conferenza dei capigruppo del comune di Sulmona a proposito dei lavori da eseguire su plesso scolastico sulmonese Denino Morandi chiuso dal 17 ottobre 2014 dopo i sigilli posti dalla finanza dell'Aquila su una parte dell'edificio per presunti lavori sbagliati post-sisma è stata la presidente dell'assise civica Katia Di Marzio a chiamare in causa De Crescentis gli uffici della provincia per verificare di persona lo saldo di avanzamento della convenzione con il provveditorato che diventerà soggetto attuatore dell'esecuzione dei lavori Comune, provincia e comitato degli ex docenti nei prossimi giorni faranno un ultimo tentativo presso il provveditorato alle opere pubbliche per verificare la possibilità di scorrere la gradatoria e accelerare i tempi sulla tabella di marcia come dei impegni pressi l'incontro lo faremo ma questo non significa che stiamo rallentando le procedure per la convenzione precisa De Crescentis seguirà un summit di aggiornamento la prossima settimana per monitorare tutti gli sviluppi della vicenda adesso ci occupiamo della raccolta differenziata perché il comune di Sulmone e il Cogesa tu per tu con gli utenti per la campagna informativa si comincerà a venerodì nella frazione cavate sentiamo al via la campagna informativa sull'estensione della raccolta differenziata si comincia dalla frazione cavate venerdì alle ore 21 presso il centro ricreativo e si proseguirà il giorno seguente alle ore 17 nella frazione torrone presso l'ex scuola elementare si tratta di una campagna coordinata da amministrazione comunale la società Cogesa servirà a informare la cittadinanza sul tema della differenziata in vista dell'estensione che avverrà entro il mese di giugno nelle settimane successive si proseguirà con incontri nelle altre frazioni e nelle zone che saranno interessate dall'estensione del servizio le informazioni verranno preventivamente comunicate per permettere a tutta la cittadinanza di partecipare raccomanda l'assessore comunale con delega all'ambiente Alessandra Vella i 20.000 mastelli e 5.000 bidoni condominali da 120 litri sono arrivati lunedì e sono stati sistemati nell'ex caserma Cesare Battisti saranno distribuiti alla zona Peppa le frazioni e nel resto della città per un costo totale di 343.000 euro saranno 1.500 le nuove utenze di cui 900 domestiche e 500 commerciali fra queste mille faranno anche compostaggio domestico cioè concime con i loro orti e giardini 700 alle frazioni 300 in periferia e adesso ci spostiamo ad introdacqua via libera il piano sociale senza la minoranza proclamata la consigliera Stefania esposito al posto del dimissionario Pasqualino Susi sentiamo nel servizio di Andrea D'Aurelio Passa l'unanimità introdacqua il piano sociale distrettuale 2017-2018 dell'ambito Peligno senza i voti della minoranza che ieri non era presente in aula consigliare un atto dovuto quella della votazione del piano sociale che dovrà essere fatto proprio dalle 17 municipalità dell'ambito distrettuale Peligno nel corso della seduta dell'assistitiva civica e sarà proclamata consigliere comunale Stefani Esposito che prende il posto del capogruppo di maggioranza di missionario Pasqualino Susi la minoranza si vede che non è molto attenta alla vita politica del paese interviene primo cittadino Terenzio Dicenzo che non manca di sottolineare come nella seduta di ieri i banchi dell'opposizione erano vuoti Stefani Esposito prima dei nonni eletti entra a far parte del consiglio comunale d'introdacqua quasi due anni dalle ultime consultazioni comunali le dimissioni del consigliere Susi risalgono lo scorso 24 marzo l'ormai ex capogruppo di maggioranza spiegato di aver preso la decisione esclusivamente per ragioni personali sgomberando il campo da ogni dubbio chiaro il riferimento alla vicenda del crollo del tetto del palazzetto dello sport è crisale al 10 febbraio 2012 ma gli avvisi di garanzia della procura sono arrivati nei giorni scorsi il nome di Susi ingegnere capo del comune è fra i nove indagati ma le dimissioni non hanno nulla a che vedere con l'inchiesta adesso c'è un aggiornamento di cronaca è stata smantellata dai carabinieri di Pescara una banda per furti di rame dedita al furto di rame sei arresti in carcere sono finiti due romeni residenti a vasto uno di 31 anni e l'altro di 30 ai domiciliari è finito il ricettatore Gianni D'Alessandro cinquantenne di spoltore sono in corso invece le ricerche degli altri tre romeni componenti della banda le indagini dei carabinieri coordinate dal PM Gennaro Varone hanno preso il via nel mese di giugno 2016 a seguito di un controllo da parte di una pattuglia in servizio di perlustrazione in quella circostanza furono fermati i tre romeni in via Raiale a Pescara nei pressi dell'ex cementificio e trovati in possesso di arnesi atti allo scasso le successive indagini portate avanti con l'ausilio di intercettazioni telefoniche ambientali hanno accertato l'esistenza di un'associazione criminale dedita alla commissione di furti consumati in aziende nelle province di Pescara e L'Aquila il materiale rubato veniva ricettato da D'Alessandro titolare della ditta di smaltimento rifiuti non ancora attiva con sede a Miglianico e lasciamo questo aggiornamento di cronaca adesso torniamo a Sulmona il centro sociale anziani in festa la scorsa domenica con una conviviale alla presenza di 180 soci l'occasione è stata utile per fare il punto della situazione sulle attività del centro sociale anziani di Sulmona Gaetano Trigilio il centro sociale anziani è ormai una importante realtà sul nostro territorio il centro offre alle persone un po' avanti degli anni un luogo di incontro di aggregazioni di gioco di divertimento ma anche un'occasione di arricchimento culturale con questi auspici l'attenta presidenza del centro si dà da fare per creare momenti ricreativi come ad esempio un pranzo conviviale in ristorante come accaduto domenica scorsa ben 180 soci si sono dati di convegno nel ristorante a Legginestre a Sulmona che non si sono limitati a gustare le buone pietanze preparate dallo chef ma sono scesi subito per così dire in pista per ballare non c'è luogo più indicato come esempio alla tavola per parlare raccontarsi le proprie esperienze momento di commozione quando il presidente Giacomo Spinosa ha consegnato una pergamena ad un socio che ha compiuto gli anni un augurio grande a Gennaro un applauso come dicevamo il centro sociale favorisce l'incontro e l'aggregazione di tanti anziani desiderosi di trascorrere insieme ore liete per sentirsi persone ancora vive ed in grado di dare molto alla società uno degli scopi fondamentali dell'associazione è impedire che l'anziano sia preda della solitudine e delle marginazioni attività e rimpegno solliviatico dell'età avanzata non a caso nell'ambito del centro è sorto un gruppo di veri attori che insieme ad una meditevole regista di teatro quale Marisa Zurlo ha messo in scena lavori teatrali come il Valzer di Margherita ottenendo notevole successo non a caso l'associazione si chiama Risveglio ed opera unitamente ad un'associazione già esperta in fatti di teatro la compagnia Arianna il centro organizza gite commiviali feste danzanti ed altro comunque il centro non è solo un luogo di mero passatempo esso offre la possibilità di incontri culturali di scambi di esperienze di educazione sanitaria di prevenzione con un buon occhio rivolto alla salute nella nuova sede concessa qualche anno fa dall'amministrazione comunale spesso si tengono concerti conferenze incontri con professionisti medici e persone delle istituzioni ed è la cittadinanza stessa a partire proprio dai giovani che pure sono inseriti nell'associazione e danno il loro contributo disinteressato e valido con oltre 350 iscritti il centro è una delle associazioni cittadine più numerose io mi sto divertendo mi trovo benissimo è un ambiente allegro vivo maggiormente vivo perché è pieno di tante belle iniziative mi trovo direi a mio agio perché nella mia vita da cittadino e da politico ho avuto sempre un occhio di riguardo verso gli anziani verso gli ultimi verso quelli più deboli tra le altre cose in questa occasione devo ringraziare il presidente Spinosa che mi ha voluto qui ci siamo divertiti abbiamo mangiato abbiamo i nostri figli vicino noi siamo insieme perché ci vogliamo divertire vogliamo passare delle ore tranquille in buona compagnia è gratificante vedere un numero così esorbitante 180 persone che partecipano a una conviviale questo vuol dire già da sé è la miglior risposta che si possa avere e c'è un altro aggiornamento di crona che è stata trovata prima di vita in un podere nel comune di Vasto nei pressi del cimitero di San Salvo Carla Spagnoli la 39enne di San Salvo che da sabato sera si era allontanata spontaneamente da casa dei genitori dove viveva con la figlia di 6 anni è stato il padre Sebastiano a ritrovarla sul ramo di un albero di ulivo dove era salita molto probabilmente per trovare riparo abbracciata al tronco indossava gli stessi abiti giubbotto blu jeans e scarpe chiare con i quali era uscita si è in attesa del magistrato di turno della procura di vasto del medico legale per un primo esame esterno del cadavere il corpo non presenta segni di violenza la donna di corporatura minuta potrebbe essere morta per il freddo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di vasto lasciamo quest'altro aggiornamento di cronaca adesso lo sport ci occupiamo di tennis perché si è svolta nei giorni scorsi a Sulmona ai campi da tennis in località incoronata la fase provinciale dei campionati di quarta categoria l'appuntamento è stato organizzato dal tennis club Sulmona la federazione italiana tennis ha affidato al tennis club Sulmona l'onore di organizzare la fase provinciale delle prequalificazioni internazionali d'Italia sono campionati provinciali di quarta categoria i vincitori poi andranno a disputare un torneo regionale a Pescara e per poi approdare alla fase nazionale presso il fuori italico a Roma durante l'internazionale d'Italia Abbiamo avuto una buona partecipazione a livello maschile erano 32 giocatori provenienti da tutta la provincia e il vincitore è stato il beniamino di casa Inic Andrea Maciocia Marco Primo classificato Inic Andrea Bravo 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 A livello femminile invece si è giudicato del torneo l'aquilana Marcella Luzzi Categoria femminile seconda classificata Saracino Doroti Un applauso Grazie Grazie Prima classificata Marcella Luzzi Grazie 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 Per la quindicesima giornata di ritorno impegno casalingo per la Sulmonese Ofena che affronterà lo spoltore di Donato Ronci sarà lo scontro tra la seconda e la quinta in classifica separate però da 25 punti un divario dunque troppo notevole che non consentirà l'accesso ai playoff alla squadra quinta in classifica in questo caso la Sulmonese Ofena I biancorossi sono reduci dal successo a Silvi e lo spoltore dalla vittoria contro il Villa 2015 che fa seguito al successo contro la capolista Chietitore Alex Gara casalinga anche per il Raiano che ospiterà il Castiglione Valfino la squadra di Antinucci occupa una posizione di classifica tranquilla e oggi se dovesse vincere il Casalborino invece non vincerà con la Val di Sangro ci sarà la matematica salvezza quindi appuntamento oggi alle 16 per le gare del campionato di promozione con le partite casalinghe gli impegni casalinghi della Sulmonese Ofena e del Raiano in terza categoria si gioca invece una partita importante per Lovidiana che oggi recupera a campo di Giove la gara non giocata qualche settimana fa se dovesse esserci il successo dell'Ovidiana quest'oggi la squadra degli Ultras del Sulmona si porterebbe a più 5 dalla seconda posizione mettendo una serie ipoteca per la vittoria finale quindi impegno importantissimo per l'Ovidiana calcio d'inizio quest'oggi alle 16 a campo di Giove tra il campo di Giove e l'Ovidiana prima di concludere c'è un altro aggiornamento di cronaca è morto il 62enne di Moscofo che domenica era rimasto gravamente ferito dopo essere stato investito dalle fiamme mentre bruciava le sterpaglie in un terreno di sua proprietà nelle campagne del comune del Pescarese l'uomo Enrico Luciani imprenditore è deceduto ieri pomeriggio al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma dove era stato trasferito lunedì domenica mattina l'uomo stava pulendo un fondo agricolo e dando fuoco alle foglie quando è stato lambito dalle fiamme era stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero a Pescara aveva riportato ustioni sull'80% del corpo ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara lunedì mattina era stato trasferito a Roma degli accertamenti si sono occupati i carabinieri della compagnia di Montesilvano bene non ci sono altri aggiornamenti possiamo così quasi concludere questa edizione del giorno del nostro TG perché dobbiamo vedere prima i film in programmazione alla multisala Ijoland di Corfinio La Bella e la Bestia con proiezioni alle 18.20 alle 21.10 Ghost in the Shell alle 18.20 e 21.10 non è un paese per giovani alle 18.10 e 21.10 è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie nella cortesa attenzione prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 ci salutiamo con il meteo buona giornata a tutti voi sulla nostra regione condizioni di cielo prevalentemente sereno poco nuvoloso ma poi assisteremo alla formazione di annuovolamenti consistenti al ridosso dei rilievi e sul settore occidentale con rovesci e manifestazioni temporalesche localmente di moderata intensità in estensione verso l'Aquilano e la Marsica fenomeni in attenuazione innottata ma dopo una mattinata all'insegna del bel tempo anche nel pomeriggio di domani torneranno a svilupparsi addensamenti associati a rovesci e temporali specie sulle zone interne montuose in estensione verso le zone pedemontane collinari che si affacciano sul versante adriatico temperature generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi venti deboli dai quadranti orientali o sud orientali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera mare generalmente poco mosso lungo la fascia costiera